Nella scultura Sowelo del 2012 troviamo una rabarama matura, completa, una rabarama d'altri tempi, quindi attualità, oggi, una scultura del 2012, e tutto il vissuto, un percorso veramente straordinario quello di rabarama. Quindi troviamo in quest'opera Sowelo gli occhi sulle mani, quindi nuovi inserti, troviamo la numerologia che fa parte, rientra nelle ultime opere di rabarama. Questa scultura è tirata a soli 100 esemplari, quindi oltre la numerologia, gli occhi sulle mani, che sono nelle ultime opere un riferimento importante anche nei mani, in questo multiplo a soli 100 esemplari abbiamo questa runa germanica che sta a significare proprio Sowelo. Buona salute, eh? Tanta positività attorno ad una scultura con una chiave classica, che è quella data dagli alveoli. Gli alveoli per rabarama, quindi ricordiamo le sculture transiguana, no? Ha questo sapore questa scultura, una scultura che è poco più grande di 21 cm, una bella larghezza, un'ottima profondità, con una fusione a cera persa ad hoc, e qui per voi in visione. Merita, naturalmente, perché su questa scultura la visione diretta ne darà la conferma del successo e della tradizione rabarama. Sowelo!